Ha abbracciato la barra del figlio per quasi tutto il tempo la mamma di Giuseppe Lucarizzi, 21 anni, caporale dei paracadutisti di Barletta, ha deceduto il 12 ottobre scorso in seguito ad un violentissimo incidente stradale avvenuto a rientro da un turno di servizio di sorveglianza sulla via Aurelia, al confine tra Pisa e Livorno. La voce soffocata da un pianto straziante e inconsolabile sorretta da alcuni militari dell'esercito durante i funerali celebrati in forma solenne da Don Rino Mastro Domenico nella chiesa di San Giovanni Apostolo. A rito funebre, oltre alle autorità civili, militari e religiose, hanno partecipato semplici cittadini e conoscenti, addolorati dalla perdita di una vita così giovane mentre era al servizio della collettività nazionale. Insopportabile il dolore per amici e parenti. Prima della cerimonia la Salma del Militare era stata ospitata nel foyer del Teatro Curci. Intanto, nelle ultime ore sulla questione, la Giunta Comunale ha esaminato e approvato una delibera con la quale, su richiesta del Comando Militare Esercito Puglia, si concede una nicchia per la Salma del Giovane Caporale, riservando uno dei tumuli di prossima realizzazione nel cimitero comunale di Barletta. In questo modo, recita un comunicato del Comune, si è inteso esprimere il sentimento dell'intera comunità cittadina di fronte al tragico evento.